al mezzo Mercoledì 13 marzo, San Savino è il 73esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 293 al termine il sole sorge alle 6.26 tramonta alle 18.15 la luna si leva alle 7.52 tramonta alle 22.30 17 giorni dopo aver abdicato e dopo aver ricoperto per ben 24 anni la massima carica della Repubblica muore nelle sue case di Santa Giustina il doge Pietro Ziani successore di Enrico Dandolo le previsioni per domani non si verificheranno precipitazioni cielo sereno, poco nuvoloso sulla pianura di notte varie nebbie in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti